È stato un momento che porterò nel cuore, così il Vescovo di Arezzo Cortone Sansepolcro, Monsignor Andrea Migliavacca, dopo l'incontro con i giovani italiani ed internazionali che si formano per diventare cittadini attivi e ambasciatori di pace. È infatti trascorsa una settimana dal suo insediamento e il nuovo Vescovo ha deciso di incontrare da vicino l'Associazione di Rondine Cittadella della Pace. Ad accompagnarlo nei luoghi simbolo della cittadella i giovani della World House, ragazzi provenienti da luoghi di guerra che accolgono la sfida di convivere con il nemico e formarsi come futuri leader ed ambasciatori di pace. Dal monumento delle rondini che traccia le radici spirituali della cittadella all'ingresso dell'Arena di Gianin con le iconiche parole di Liliana Segre, fino alla scuola dove ha salutato i ragazzi del quarto anno Rondine, liceali di tutta Italia che hanno l'opportunità di trascorrere un anno nella scuola della cittadella della pace. Ad accogliere Monsignor Migliavacca anche i partecipanti alla seconda edizione del progetto Mediterraneo Frontiera di Pace che dopo un anno a Rondine torneranno nelle loro comunità per sviluppare progetti di impatto nei loro territori e rafforzare il network di giovani di tutto il Mediterraneo che lavorano per la coesione sociale. Ciò che si vede qui non è solo frutto di programmazioni o strategia, ma intuizioni che condividendole si realizzano e ci portano dentro un progetto. Ha concluso il Vescovo Migliavacca.